L'olio, il suo colore, i suoi profumi, la valorizzazione delle produzioni toscane, i nuovi mercati e le filiere di produzione di extravergine, accompagnate da temi legati alla tutela del marchio e alla lotta alla contraffazione, sono stati al centro della giornata conclusiva di Olea 2013, la manifestazione organizzata dal 10 al 30 novembre dall'Istituto Agrario Anzillotti di Pescia. Da sempre Olea rappresenta per l'Istituto Pesciatino una delle iniziative più attese, un'occasione per parlare di una delle produzioni di punta del settore agroalimentare toscano. Non si deve solo produrre olio buono, olio di qualità, ma dobbiamo avere la capacità anche di tutelare quello che produciamo e quindi di difendere le varietà vegetali, ma di difendere anche il marchio con cui questo prodotto viene commercializzato. Numerosi relatori presenti che si sono alternati su temi come la produzione, la commercializzazione e la tutela dei prodotti della filiera olivicola. Noi crediamo che bisogna continuare con un'azione importante di informazione verso i consumatori e anche di repressione verso questi fenomeni che ripeto hanno di contraffazione, che mortificano l'attività di tante produzioni. Consorzi di tutela si batte per combattere questo fenomeno e ridare un giusto reddito agli olivicoltori. Ai ragazzi che studiano per proiettarsi in un'attività nel mondo agricolo, nelle imprese agricole, è di assoluta importanza far vedere come la nostra qualità, la qualità dei nostri oli della provincia di Pistoia sicuramente non è compensata oggi per il produttore dall'andamento del mercato. Una manifestazione che non a caso coincide con la fase finale della produzione dell'olio dove ad essere impegnati sono gli stessi studenti durante la fase di raccolta delle olive, fino alla vendita e alla sua commercializzazione.